Ciao Licia, volevo ringraziare te e l'associazione Animali Animali, che grazie a te sostieni praticamente a differenza delle altre associazioni che fanno solamente molte parole, tu sostieni praticamente fisicamente tutti questi nostri animali, io ne ho 146 all'Infernetto in varie zone, sono 12 colonie. Grazie da tutti loro, ciao miau!